Ma che giochi senza microfono, sei buono, vai Sei buono, sei buono, poi tu l'hai muoio da dietro Vabbè, niente, però c'è, bolletti caso, ce n'è uno sgama, uno nascosto An alle Einheiten, wir haben das Einsatzziel erobert Wir haben das Einsatzziel erobert, over Oh, no Hier stand medikit, ma'am Yeah, hit that medikit Yeah, hit that medikit, ma'am Yeah, hit that medikit Die erste Hilfe ist unter dir Nimm Achtung, wir haben das Einsatzziel erobert Over Achtung, das Einsatzziel wurde erobert, over Nimm dir das medikit, hol's dir Achtung, wir haben das verdammte Einsatzziel verloren Achtung, das Einsatzziel wurde erobert Hier ist das medikit Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Spassi 12 Naso non chiuso, naso non chiuso per can dire Arrivo l'ora insieme la Sì, stai con i soldi di servizio. Lassare il lavoro. Il risultato è arrivato. 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 Hoci il medico. Ecco il medico. A presto! A presto!